Il pallone in profondità, Sculli di petto, la mette giù bene, non c'è fallo di mano, Palazzo ha col fatto, caccio di rigore, l'ha segnalato Guardalini, Resetti ha guardato Guardalini e poi è arrivata la comunicazione nel calcio di rigore. Poi il contatto c'è, un certo netto di Ziegler con il ginocchio sinistro sulla gamba destra. Milano, Regno! Sculli aveva un ricordo contro uno, si è allacciato troppo, Sculli ancora verso il centro, L'autopalo, clavoloso del Ziegler, diventissimo supera. Il pallone è buono per Sculli, in posizione regolare, Sculli aveva il rigore, al centro c'è Pagadino, Sculli non c'è, Bacca, cerca la porta, è di volo, una scassione clavolosa. Partito attura per Cassano, il calcio di punizione, Cassano va via, attenzione perché c'è un pallo di mano di Piava, e allora sarà il rosso, clavoloso in genitato di Piava, clavoloso in genitato di Piava, che sta dicendo che hanno battuto con la palla in movimento, nel momento in cui l'albero non ha fermato il gioco, non puoi prendere la palla con le mani. Rossi controlla il banco, Rossi primo, 2-0. Il pallone è buono per Sculli, in posizione regolare, Sculli in mezzo, il pallone è buono sulla spetta, e con lo sentito, tantissimo Cassi all'alzi, saluta. Il pallone è buono per Sculli, L'apertura di Juric per Rossi, che è ancora in posizione regolare, sono in tre e mezzo, Rossi dentro per Milavento, pallone è il castellanzi, domina il genoa. Pocchetti, va via Pocchetti, il pallone è buono per Rossi, è il secondo giallo per Rossi in pochi minuti, e anche la Sondola rimane in gioco. Arriva a sossegno Pocchettopolo, secolo servito, perde lo spazio, Ziegler! Caccia di rigore, ancora una volta a quarta linea. I like ballplayers, rap stars, addicted to the limelife, empty and made, got you feeling like a champion, the city never sleep, better slip, you a happy, new york, new york, what you want to be? Ruffo, il latino, 3 a 0. La notte è buissima adesso per la SAC Attenzione alla missa perché ballarino deve aver fatto un gesto verso i tifosi della SAC Interviene Criscito dopo che c'è stato un fallo di Cacciatore E il rosso diretto per Cacciatore Il 9 la SAC La notte è buissima adesso per la SAC Grazie a tutti